Sobsol amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Danai e oggi torniamo con la Zoriac Challenge Ragazzi, praticamente è appena arrivata una domanda Oh, qui c'è un concoppezetto, prendiamocelo subito Scusa, mi è appena arrivata la domanda, ragazzi, sì, di lavoro Per Zaki, praticamente un cronista che ha fatto la domanda sul fatto che la costruzione di non so qual edificio avrebbe compromesso l'habitat del lama La risposta era se tirare dritto e ignorare il cronista o se invece rispondere fingendo interesse per il lama Rispondendo se ci si sarebbe guadagnato un nemico ma sarebbe cresciuta la nostra fama Io ho scelto quella E ci è venuto questo Nome rivelato e screditato mentre Zaki cerca di parlare senza impappinarsi dello splendido lavoro svolto dai politici al municipio per aiutare il sim meno fortunati Nota che una folla di manifestanti si è assiepata a poca distanza e qualcuno urla Sì, ma il lama È evidente che Zaki ha mancato il bersaglio con la sua risposta e questa sarà senza dubbio la notizia di apertura dei notiziari serali Zaki ha stretto amicizia con la tv In amicizia, scusatemi Ha stretto un'amicizia con l'attivista dei lama di nome Dirk Dreamer Perfetto, abbiamo un nuovo nemico In tutto show ragazzi, la situazione più o meno è questa Lui, li ho iscritti alla scuola materna, è una mod Puzza da fare schifo, ha bisogno di un bagno C'è una sua amichetta qua, come potete vedere, eccola qui Guardate, si chiama Adrian, l'ha portata a casa la scuola, esattamente come succede per i bambini Però ragazzi, se andaste in casa sarebbe anche meglio, che dite? Cioè, boh, chiacchiera qui, cioè, state fuori, piove Lei dovrebbe mangiare, quindi se per cortesia Cioè, no, ora qua Zaki ritornerà dal lavoro Sì, secondo me si infuria, proprio bestia Anzi, lei secondo me è stanca, va a farti un pisolino C'è la babysitter Ah, me lo sta chiedendo alla mamma, ok, chiedela alla mamma Dagli da mangiare, va Ok, oggi c'è anche il giorno della prima stagionale televisiva E lei però sta andando a letto Sì, ma dagli da mangiare, se no è totalmente inutile, scusami, eh Cioè, abbi pazienza Dagli dei piselli, vai Ferma, vai, dagli da mangiare, che la bamba ha fame Poi vai a farti un pisolino Lui, credo che abbia fame Sì, quindi cibo Chiediamole a Adrian Alla, sì, Adrian No, Adeline Adrian è lei, se non ricordo No, come cavolo si chiama? Adrian Si chiama Signora, mi dai la bevanda e il cibo? Lui è appena tornato dal lavoro È stressatissimo Vediamo Bisogna assoluto divertimento Sì, c'è Oh mio Dio Oh mio Dio Ok, c'è Oh, delusione dei lama per il danno d'immagine Per quanto possa impegnarsi il numero di cose che Zachary può perorare ogni giorno è limitato La gente non se ne rende conto Se però Zachary deve essere sincero con se stesso Non può fare a meno di prendersela proprio con se stesso Per essersi dimenticato dei lama Come hai fatto a dimenticarti dei lama? Lo ha fame Cioè, ce l'ha tutte Debuttante lustre Bene, quindi La fama sta aumentando Si sente anche insicuro Olè ragazzi, che bello Cioè, sta proprio bene Zach È in grande, grande, grande forma Devo dire Quindi Vabbè, torna a casa Quindi già è stressato Lui entrerà in casa E vedrà il macello Con la... Lei sì, c'è lei congedala Dicevare Grazie, se ne può anche andare Lui ha mangiato No, ma che Nessuno ha dato il cibo al bambino Dai il cibo, per favore Dagli dei piselli E dagli anche la bevanda Dagli dell'acqua Tu stai mangiando No, mangi i piselli, amore mio Lo so che non hai più fame Ma mangi i piselli Qui c'è la bimba Fa una presentazione amichevole con la bambina Poi dobbiamo occuparci dei piccoli Perché lui ha bisogno di un bagno Assolutamente sì Poi, oddio, i cuccioli Riempi la ciotola e chiama Coco Riempi la ciotola e chiama Jax Bene, ha conosciuto anche la piccolina Ora, oh mio Dio C'è, ragazzi, c'è la devastazione in questa casa Puoi smettere di parlare con la bambina E fare quello che ti ho detto? Grazie Perché qui c'è tante cose da fare Controlla il bebè un attimo Per favore Che lui adesso Se secondo me si sta pure adirando Però la priorità al momento sono i bambini Dai, gioca un po' con lei un attimo Magari ti diverti anche tu Devo proprio andare Ciao, ciao Adrien Possiamo fare qualcosa? Oh mio Dio C'è qui, ragazzi C'è veramente la Il disastro Aspetta, allora Aspetta, aspetta, aspetta Con calma Cura del bebè Cambia il pannolino Perché sicuramente è da cambiare Sì, fai uscire anche lui Va benissimo Poi però tesoro Fammi quello che ti ho detto Cambia il pannolino Anche a lui No, lascia sta sto seggiolone Non cominciamo la triteria del seggiolone Cura del bebè Cambia il pannolino Devo andare anche in bagno Ma perché devi venire fuori Per cambiare il pannolino Signore Ok Lui sta cambiando il pannolino alla piccola Vorrei che lo cambiasse anche al piccolo Vieni qua Fermo Cura del bebè Cambia il pannolino Ci ha chiamato anche Arun Bida Lui che vuole fare Assieme che vuole con Arun Assieme che vuole con Yasmin Ah Yasmin è uscito ragazzi Tra l'altro il desiderio Di fidanzarsi ufficialmente Con Zack Maddu Oh mio Dio Che ci fa Giuliana qua Ok non è incinta vero No scusate perché rascio l'ansia No non è incinta no No perfetto No meno male Oddio ma cosa ci fa qua Secondo me lei aveva voglia di vederlo E lui però secondo me gli dirà No Amichevole Fa una conversazione profonda Chiedete la sua giornata Gli dirà Ma tu che ci fai qua Eh sì Dagli anche i bacini Mi raccomando Sai che qui c'è mia moglie E lei gli sta Fai un secondo Una conversazione Parla E lei secondo me Gli sta dicendo Guarda ho bisogno di vederti Guarda ascolta Mia moglie Stasera andrà via Andrà a trovare parenti Io me la sto facendo Anche sotto Ci vediamo stasera Che ne pensi E lei accetta Però adesso Devi davvero Io devo risistemare Quelle cose Poi vai a fare Insomma i tuoi bisogni Manda via lei Giuliana Cazzarola Ti sei presentata a casa Vieni a svegliare Questa disgraziata Svegliala Anche perché lei tra poco Deve andare dai suoi genitori Dai suoi parenti Non abbiamo neanche una vasca Non ho una vasca Santo cielo Devo cambiare questo Per forza Anche se mi dispiace Perché mi piaceva Che scatole ragazzi Cioè allora Ok lei si è svegliata Lui è Incavolato Nero Sfogati Dice ma Hai visto che bambina Andrà da soli Tu sei Ma che cavolo Cioè Disputa Di genitorialità Sì amichevole Un par di ciuffoli Ma cosa la baci No sicuramente Lui non l'avrebbe Baciata Non so perché Lui puzza Ma te ne anni conto Cioè Lei non è incinta Perché le vedo Sta pancetta Ragazzi C'ho l'ansia Se sia incinta Vi giuro No ok E lei Fatto ciò Se ne andrà via Non mi ricordo Da dove Se andava via Ok Attività sociali No facciamo Facciamo Vacanze Mandiamola a mine vacanza Per ora Se ne andrà due giorni Dai genitori Quindi questi Stanno litigando Come se non ci fossero domani Il bambino è fuori A parlare con Arun Vieni qua Cioè Hai sonno Hai bisogno di divertimento Ce l'hai tutte Abbraccio confortante Anche la piccolina Sta messa Veramente male Balbetta 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 In tutto ciò Che poi Ora il babbo Si occuperà anche di te Cioè Qui c'è una situazione Disagiata E si farà una mini vacanza Vabbè Con i suoi parenti Che non esistono Quindi mandiamola Con i Liza Pancakes Arun Tesoro Bisognerebbe che te ne andassi Non sei adesso Gradito In questa casa Just go away Allora Io devo mettere Una vasca Questo è poco Ma sicuro Se c'è una certezza Nella vita È che devo mettere Una vasca Ok Ho messo Questa doccia Orribile E facciamo Un bagno A Maribel E uno A lui Tutte ne puoi andare Cortesemente Ok Allora Lui gli sta facendo Il bagnetto Al piccolo Mattias Mentre è solo In casa E un piccolino Guardato come sguazza Amore Che bellino Cioè qui è tutta una famiglia Di nuvole Puzzolenti Quest'altro Fa un pisolino Tu te ne vuoi andare O no? Cioè ragazzi Guardate c'è la gente Che si piazza A casa tua E ci resta Ma chi ti ha invitato? Ma vattene via Eh vattene Tu intanto fa un pisolino Amore bellino Che cucciolina Che sei Allora Ok Dai Finiamo il bagno Al piccolo Così poi Facciamo il bagno Anche alla bimba Una cosa di giorno Cortesemente Ok Fermo Fai un bagno A Maribel Vediamo se il piccolino Può andare a dormire da solo Mi manca divertimento Ma ha troppo sonno Quindi va a letto Per adesso Se ce la fai A sedere le scale Sì molto bene Piccola svegliati Papà ti deve fare il bagno Maribel Allora Piccolina Vogliamo andare Cucciola Andiamo a farci il bagnetto Su poi andiamo a nanna Che papà Stasera Ha un appuntamento Che non lo dirà la bambina In realtà Ma Amore Ma è bellissima No rifallo Per voglio farti una foto Ti prego Ho anche rimesso di shade Vedete quanto è bella sta cosa Vediamo Oh Che amore Adoro Maribel Ma anche Mattias Sono adorabili Entrambi Mi piacciono tantissimo Non saprei dire A chi somigliano In realtà Quando tu Hai fatto il bagnetto Te ne vieni A dormire Lui vuole andare A fare una passeggiata Vabbè magari L'avrà detto Che si vedranno No vabbè Dai È che Dai Sì piccolino Poi ti ci porto Guarda Facciamo una cosa Per stasera Facciamo così Ti dico Fai uscire No Non posso dirtelo Sì Perfetto Fai uscire Dai puoi andare Fatta una doccia Anche tu Caldo e sensuale Allora Ho creato il club Lovers Non ci ho messo nessun Guardate Ve lo mostro Nessuna Attività Per non influenzare La cosa Però volevo che lei Arrivasse Oppure che Invitandola a casa Normalmente Lei non sarebbe venuta Quindi Invitala a restare Per la notte Venire a salutare Subito Che ci fa la piccolina Sveglia No Vai a dormire Amore Hai sonno pure Quindi Dormi Lascia stare il gatto Ora Cosa vuoi fare Con papà Chiede a Zachary Da bere Abbraccia Zachary A cucciola Bene Lui è qui con lei Lui ha pure fame Direi che potrebbe Prendersi Vediamo Posso Se ci sarebbe Da buttare Il cibo variato Però Prendi gli avanzi E poi con lei Guarda Non posso farlo Con lei Vabbè Guardiamo la prima Di stagione Speriamo che lei Si unisca a noi Ok Eccoli qui Aspetta Vorrei fare Amoreggia Lo puoi guardare Ma nel frattempo Amoreggia con lei Eccoli qua Questi guardano La prima di stagione Spengiamo Anche le luci Di questa stanza Tanto c'è il cammino Guarda che bello Gli devo fare una foto Ragazzi Gli amanti Con il cammino Acceso Bellissimo La scena è molto bella Sussurra le smancerie Guarda tu Se la mia Boccata D'aria fresca In cui c'è Mia moglie C'è una cosa Che lo Con lei Si sfoga molto No Adola Sì lo so Che vuoi andare Amore A fare una passeggiata Ma in questo momento Non posso E capirai da solo Il perché Promuove la causa Già che ci sei E poi magari Le dai un altro Bacio E noi abbiamo Completato la tradizione Molto bene Io devo spostare Il tavolo Perché lui deve Mangiare Prende gli avanzi Ok Basta parlare con lei Poi tanto Ti faccio Fichi Ficheggiare Stai tranquillo Allora Facciamo così Romantico Bacio appassionato Sì Baciala sul collo Ma ragazzi Sta per succedere Un disastro E poi Fai No Cerca di avere un figlio No Che diventa Nella fidanzata No Stringila Bacia E lei ragazzi Non è più partita È tornata E l'ha sgamato In piano E questa foto Merita E questo momento Anzi scusatemi Al contrario Merita decisamente Una foto C'è questo Questo momento Ricordatelo Perché è il disagio Totale Completamente Il disagio Totale Allora Non ho il coraggio Di mandare Vediamo Perché ho anche La nuova mod Ecco Lei si è arrabbiata Giustamente E lui Sta continuando Un perterrito Eh tesoro Pure Continua pure Altre scelte Perfido Non so Dove sia Perché Vediamo Chiedi di entrare Nel club lovers Promisto Pateful Zafari Lai Menti Lai Allora Lei intanto Fa una presentazione Scortese Con Giuliana Perché ragazzi Sta Sì ragazzi Voi abuzzatela Perché c'è lei qui Non so se ti sei reso conto Zack Che lei ti ha appena Sgamato Vogliamo uscire Dall'impasse No 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 Assolutamente Non divertente Perché non credo E tu abbia tanta voglia Di divertirti E tu chi sei E soprattutto Urla contro Zack Perché ti ha tradito È felice No scusate Come è felice Amore Sensualità Sono Ecco Sono definitivamente Nei guai Però Avrei avuto Relazioni Multiple Beh sì Direi di sì Va bene Lei ovviamente Urlerà Contra lui Perché Arrabbiatissima Perfido Fight Zachary For cheating You Lotta con Zachary Per aver Trelito Ma con lei Posso fare Qualcosa Fight Giuliana Per aver Rubato Il tuo Partner Cioè Ragazzi Ma non potete Lottare E poi Parlare Così Allegramente Questa Si è venuta Pure a metà Letto Nel nostro Letto Oh Santo cielo No Vieni a svegliarla Ovviamente No Buscate lui Con Zachary Ma Zachary Non l'avrebbe Menata Confront Giuliana Confrontati Con Giuliana No Giuliana Svegliati Tu che Diavolo Sei Cosa Ci fai Qui a Casa Mia Allora Ragazzi Qui c'è Il Macello Atroce E Che altro Posso Fare Perfido Altre Scelte Urla Contro Spinton Spintonala Sì Tu Sei a Casa Mia Ci sono I miei Figli Di Sopra Giustamente Ragazzi Non ha Torto Lei Questa Volta Ha Proprio Ragione Facciamo Finta L'occhio Nero Se lo Si è Fatta Perché Se le Date Un Giuliano Tu Vedi Da Andartene Bene C'è la Lotta Tra Giulia Te Non Puoi Andare A Dormire Mi Caro Possiamo Fermare La Lotta No Blame Yasmin Wow Ok Perché sono Veramente Questa Mood È Simpatica Perché Rende Tra di Menti Un Attivino Più Come dire Chiederà Giuliana Di Andarsene Che Qui C'è Il Macello Intanto C'è Anche Questo Delizioso Bug Che A Volte Ma che Fai Dele Facce Buffe Manda Via Lei Guarda Per favore Nel momento Che Tutte Ne Vada Allora Queste L'abbiamo Visti Amichevole C'è Qualcosa Blame The Other Sim Colpa L'altro Sim Scusati Vabbè Lui ragazzi Si scusa Perché Comunque Ha fatto Una Cosa Risa Mi Dispiace Hai ragione Io E Lei Che fa Scusati No Non Credo Che Lei Si Scusi Ragazzi Qui Siamo All'impasto O Si Lasciano O Lei Lo Perdona Scusati Ha letto Questa Cosa Ma C'era Anche Prima La Mod Io Non Ricordo Cioè Mi Perdonerà Lei Non Capisco Yasmin Si Sto Do Injured From A Fight Ok Rimasta Sconfitta Dalla Lotta Insomma For Your Loved One Being In A Romance With Someone Else Ok Perché L'ha Trovata Insomma Ovviamente Il Suo Compagno Con Un'altra Soggezione Un club Popolare Triunfante Ah Ecco La Con Lei Si Flerta Sì Allora Quindi Lei Lo Sta Perdonando Fatemi Capire C'è Scusatemi Allora Io sto Un attimo Riflettendo Su quello Che si Può Fare Lei Lo Ha Perdonato C'è Incredibile Sta Cosa Lei Lo Ha Perdonato Però Ragazzi Io Secondo Me Lui No Lui Per me Chiude Si Separa Perché Non ne Può Più Dice La fine E Sta Dicendo Senti A me Dispiace Davvero Yasmin Se la Madre Di Mie Figli Sicuramente Avrà Sempre Un ruolo Importante Nella Mia Vita Ma Non È Non È Il Non È Il Caso Di Continuare Se Benissimo E Quindi Yasmin Se Ne Andrà E Qui Adesso Ci Sarà Un Attimo Da Capire Dovrete Fare Un Attimo Di Conversazione Profonda Perché Qui C'è Un Attimino Da Capire Chi Terrà I Bambini Ragazzi Sì Che C'era Scritto Fai Pace Dopo La Lotta Questo Si Fai Pace Dopo La Lotta Guardate Quanto Lo Stato È Andato Male C'è Veramente Vabbè Loro Stanno Discutendo Un Secondo Su Chi Dovrà Tenere La Custodia De Bambini Venite Dentro A Parlarne Mi Fa Io Forse Non È Il Caso Sai Mia Madre Forse Per me Sarebbe Meglio Se Da Mie Genitori A Sunset Valley Per Il Momento Forse I Bambini Starebbero Meglio Con Te Quindi Ragazzi Due Si Lasciano Eh Sì Ragazzi Sì Si Lasciano Veramente E Tra Loro Le cose Non Andavano Era Piuttosto Palese Lui È Stanco Morto Quindi Lo Manderei A Dormire Un Attimo E Lei Prenderà Tutte Le Sue Cose Andrà A Salutare I Piccoli Che Verrà A Trovarli Ovviamente E Li Saluterà Rimbocca Le coperte A Entrambi Ragazzi Ragazzi È L'ultima Volta Che Giochiamo Con Yasmin Da Questo Momento Sarà Una Sim NPC Che Vabbè Ovviamente Rivedremo Perché Essendo La Madre Di Mattias Di Maribel La Rivedremo Senz'altro Però Lei Se Ne Va E Quindi Sì Ragazzi Vado A Toglierla Dalle Unità Familiare E Siamo Tornati I Piccoli Se Dormessero Ancora Un po' Non Sarebbe Male Anche Se Devono Andare In Bagno Ma Al Momento Zack Sta Dormendo Lei Non È Più Qua Lui Sta Crefando Di Sonno Vabbè Comprerò Il Sostituto Del Sonno Sbaglio Sempre Compriamo Il Sostituto Del Sonno Perché Via Non Se No Questo Mi Dorme Tutto Il Giorno Bevi Svegliati Posa Questo Lì Bevi Ti Sto Sostituto Del Sonno Molto Bene E I Bambini A Questo Punto Viene A Svegliarli Così Li Prepari Un Attimo Dai Su Lui È un Po Giustamente Ragazzi È un Pochino Devastato Ma Nel Corri Da Separazione Comunque Un Evento Triste Il Cuore Rotto Ma Ricordi Remarranno All Good E Lui Secondo Me Comunque Sta Riflettendo Anche Su Tutto Quello Che È Successo Si Sente In Colpa Si Comportato Male Lo Sa Anche Lui Piccola Vogliamo Andare A Fare Bisognini Dai Però Si Ora Ti Porto A fare Una Passeggiata Promesso Fammi Occupare Un Attimo Dei Bambini Accarezzano Nel Frattempo Che Lei Fai Bisogni Tanto L'hai Fatta Scusami L'hai Già Fatta Mazza Velocissimo Svegli Anche Lui E Insegna A usare Il Vasino A Matias Ti Ti Sare Messa A Dormire Amore No Accarezza Il Cagnolone Vieni Ah Deve Andare A Scuola Anche Lui Svegliati Andate A Scuola Spero Che A Scuola Vi Dino Da Mangiare Grazie a Dio Che Vanno A Scuola A Questo Punto Vieni Qui Spazzola Il Cane E Portalo A Fare Questa Passeggiata Andate A Fare Jogging Che Almeno Ti riprendi Un Attimo Mentre I Bimbi Vanno A Scuola Ah Tesoro Vai A Scuola Ma Non So Come Dire Di Andare A Scuola Vai A Scuola Che Altro Era Questo No Vai A Scuola Lui Sta Andando Sì Ragazzi Vanno Da Soli Facciamo Finta Che Li Accompagni Lui L'ha Accompagnati Lui A Scuola Guarda Asciugami Qui E Ripulisci Poi Scendi Anzi Amore Vai A Scuola Vieni Qua Riempi E chiama L'animale O chiama Coco Per Mangiare Jax Lo portiamo Dopo Perché Adesso Con Jax Andiamo A Fare La Passeggiata Quindi Cura Dell'animale Va A Jogging Anzi Andiamo A Fari Jogging Con Jax Così Lui Si Ripiega Un Secondo Poi Dobbiamo Andare Avanti L'abilità Benessere Dobbiamo Andare A Pescare Perché Stasettimana Non Siamo Andati Quindi Dobbiamo Assolutamente Fare Un Raduno Del Club Per Le Regole Del Gioco Intanto Vai Cosa vuoi con Giuliana Impara a conoscere Giuliana Guarda la tv Che ci chiama Prima l'amicizia Poi il dovere Oggi Maribel Ha cercato di marinare La scuola Per consolare Un amico Che piangeva Cosa dovremmo dirle Non si marina la scuola L'istruzione è essenziale Aiuterò gli amici La prima cosa No Aiuterò gli amici La prima cosa Lui Ed eccolo Ritornato a casa Bene A questo punto Coco ha mangiato Non si sa Vabbè Chiama Jax A mangiare Sì Va in bagno Tesoro Usa E fatti anche Una doccia Ma che ora rientrerebbero L'ora della scuola Non lo so Non me lo ricordo Forse verso le tre Ah Sono già rientrati Eccoli qua I miei cuccioli Manca il divertimento Quindi Guarda Vieni qui Guarda i video Di bebè Mentre tu Vieni qua E fai le forme Aiuto con il Oh c'è la nonna Sì Chiamiamola nonna Eccola Arrivata nonna Nonna ci leggi Perché ovviamente Questa qui L'ha chiamata Magino Zack E hanno parlato E lei ovviamente Qui a dargli una mano Con i bambini Allora Lui sta parlando Con sua madre Ovviamente Perché la cosa Qui è stata Molto seria Alla fine Si è lasciato La compagna Dopo anni Però ragazzi Lui veramente Non c'è mai stato Per qualcosa E a questo punto Sta chiedendo a sua madre Di guardare la piccola Perché lui Vuole Ha bisogno di vedere I suoi amici Quindi ragazzi Lo mando Un secondo Fuori Noi viaggeremo Andiamo Ci ritroviamo Direttamente Nell'otto Con un raduno Del club Immagino L'essere fermata Allora ragazzi Lui è arrivato qui C'è questa ragazza Che lo ha fermato Ciao Scusami Per caso È questo Il ristorante Il caffè Come si chiama Sto caffè Caffè qualcosa Fa Sì è questo Ah no Perché c'è Un mio Cugino Dovevo Vederlo Ecco Sì Sai Lo vedo un po' così Fa Oh capisco Chi è tuo cugino Si chiama Salim Non chiedi della sua giornata Ma Oh ok Fa Beh Comunque Fa Salim è un mio amico Lo sta arrivando Infatti è un appuntamento con me Oh sei tu Che è il club di pesca Me ne ha parlato molto bene Per l'appunto Ecco infatti Che si è vestito Per il club di pesca Quindi ragazzi Abbiamo fatto il nostro raduno Cioè sì Dai Per il lavoro Dobbiamo fare qualcosa Intanto Promuovi Con successo completato Anche fame Ma in realtà Noi ancora Non facciamo Questo Sta bene Sì Se vuoi Unirti a noi Dovremmo pescare Non sapevo Che avesse Cioè Non mi aveva mai parlato Di te È da poco Che segui noi Un po' che vivo a Windenburg Le dice lei Comunque mi chiamo Dalia Io mi chiamo Zack Quindi vabbè Si sono presentati Si sono conosciuti Detto ciò Vediamo se c'è un punto Per pescare Perché li ho mandati qui Sperando nella pesca Eccola qua Si potrebbe fare Questo dice Sculture di sabbia Peccato Non si possa fare il bagno Cioè È una delusione Bestiale Questa Vabbè dai Intanto ti accompagno Così almeno Dice Aspetto con te Salim Che dovrebbe arrivare Tecnicamente Dovrebbe arrivare Veramente Perché Ok Dai Peschiamo un po' Pesca insieme a Dai Con Dalia Anche Jay Salim Eccolo qua Posso pescare con altri? No Va bene Allora peschiamo con loro Quindi mi insegni tu a pescare Si guarda mi raccomando L'esca è tutto È importantissima La giusta esca Vediamo Magari è più brava di te Che ne sai Ah Dubito che tu sia più brava di me E via Quindi peschiamo Lui si rilassa un attimo Mentre i bambini Sono con la nonna Nella mia fantasia In realtà sono all'asilo Ma Hai preso qualcosa Tesoro? Ah Sì Delle belle alghe Usiamo come decorazione Che dici? Ecco Anche loro Che sono vestiti Come Io avrei deciso Che siano vestiti Dove se ne va? Ma Questa è stata bellissima Lui ha trovato il modo Di tuffarsi Nell'acqua Vedete Ma ragazzi Io credo che per oggi È arrivato Salim C'è tutto intrittico Di gente Tutti nello stesso quadratino Ovviamente Però per oggi Io penso che possiamo Fermarci qua Ne successe parecchie di cose Insomma Lui è tornato single E ha conosciuto E ha conosciuto Una nuova ragazza Chi doveva essere E ci vediamo Anzi ci sentiamo La prossima volta Con un nuovo episodio Della Zodiac Challenge Sup sul Ciao Grazie a tutti.